Le verifiche non sono mai mancate, sono partite anche a seguito dell'interrogazione che il consigliere Fragassa ha formulato. Mi risulta, ho letto anche la nota, che la Soget abbia già risposto sotto il profilo tecnico. Siccome quell'intervista e interrogazione era legata anche a qualche profilo, aspetto politico, è giusto che anche noi interveniamo. Abbiamo chiesto tutti i dati e tutti gli atti a Soget che ha risposto in merito alla questione relativa all'applicazione delle spese esecutive in sede di preavviso di fermo, anziché al momento dell'iscrizione. Rispetto alla normativa che era stata citata, c'è una legge del 2013 che in realtà dà un'interpretazione diversa e che quindi chiarisce sotto l'aspetto tecnico questo profilo. Per quanto riguarda l'aspetto politico, noi abbiamo, come è giusto che sia, monitorato attentamente tutta l'attività che è stata svolta. Ci atteniamo a questa risposta, procediamo le nostre verifiche e invitiamo tutti, visto che c'è una situazione di confusione e di caos e anche purtroppo di disagio nei confronti dei cittadini su alcuni accertamenti, molti accertamenti che sono errati e su cui noi stiamo intervenendo perché possano essere corretti fin dal primo giorno, però evitiamo di creare ulteriore confusione, generando magari anche preoccupazioni su temi che basterebbe un piccolo approfondimento in più per dare il miglior servizio ai cittadini. Rassicuro io, tutti i consiglieri comunali, non solo i consiglieri di Fracassa, su un'attività di controllo che non abbiamo mai interrotto e che proseguiremo fin tanto che si svolgerà questo servizio. Ricordando che abbiamo già predisposto il bando di gara che è in sede di verifica da parte dell'ufficio Appalti e Contratti, abbiamo deciso di non rinnovare direttamente a Soget il servizio, servizio che è stato affidato a Soget sulla base di un bando preparato dalla precedente amministrazione di cui lo stesso consigliere Fracassa era componente. Quindi massima trasparenza e apertura al mercato per dare un servizio migliore per i cittadini.